Ben 2 milioni e 681 mila euro sono i fondi che il Molise avrà a disposizione per i non nato sufficienti. Un buon risultato, ovvero il 30% in più al 2013. Ciò permetterà alle famiglie molisane di avere cure mediche e prestazioni sanitarie maggiori. E' quando scaturito ieri nell'incontro romano dall'assessore regionale Michele Petraroia. C'è da registrare per il Molise una notizia molto positiva, che noi abbiamo avuto 2 milioni e 681 mila euro, che è pari al 30% in più delle risorse che ci sono state assegnate, per esempio, due anni fa, quando ho cominciato a seguire questi problemi. Quindi anche in considerazione di tempi che sono molto critici, dove i trasferimenti dallo Stato alle regioni diminuiscono, registrare un 30% in più, che significano più cittadini che possono essere assistiti e curati al domicilio e tante famiglie che possono essere aiutate, è una notizia sicuramente positiva. Altra partita giocata sui tavoli romani è stata quella della Cassa Integrazione, che ne vede tantissimi lavoratori molisani attenderne lo sblocco. Un'accelerazione dell'iter è stata chiesta al Ministero del Lavoro, per tantissime aziende come Gamme, Sattorie e Ditta Falcione. Abbiamo seguito sia la pratica delle costruzioni Falcione, cercando di far accelerare i tempi di risposta dell'Ufficio Legislativo Nazionale, la competenza per legge delle Cassa Integrazione straordinarie del Ministero. Il Ministero aveva trovato delle eccezioni, aveva sospeso la trattazione della pratica, il Commissario Giudiziale aveva risposto. Ieri ho tentato di, in qualche modo, sostenere la giusta rivendicazione anche dei lavoratori, che sono dal mese di giugno senza soldi, dicendo che è assolutamente urgente che l'Ufficio Legislativo possa rispondere al più presto. Mi sono anche occupato della Cassa Integrazione di Sattorie e della Gamma, però anche su questo c'è stato un elemento di avanzamento. I tempi medi per l'esame delle Cassa Integrazione sono sempre 6-7 mesi. Argomenti, quelli trattati ieri a Roma, di indiscutibile valenza economica e sociale per la nostra Regione.